Sono ore difficili per Paris Hilton Conrad, fratello minore della ricca ereditiera, è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico La decisione è arrivata dopo l'arresto del 23enne, accusato di aver violato l'ordine restrittivo che gli imponeva di non avvicinarsi alla ex fidanzata e di averle rubato un'automobile La decisione è arrivata dopo l'arresto del 23enne, accusato di aver violato l'ordine restrittivo che gli imponeva di non avvicinarsi alla ex fidanzata e di averle rubato un'automobile Il giovane erede della prestigiosa famiglia di imprenditori statunitensi ha evitato la prigione pagando 90.000 dollari di cauzione alla contea di Los Angeles ed è stato trasferito in clinica La famosa sorella, al momento, non ha ancora commentato la vicenda attraverso i suoi canali ufficiali Poco prima, si era rifiutato di lasciare la cella per comparire in sede di giudizio L'avvocato di Conrad, Robert Shapiro, ha fatto sapere di aver rinunciato al suo diritto d'appello, cosicché il ragazzo non avrà l'obbligo di ripresentarsi in aula a giugno L'avvocato di Conrad, Robert Shapiro, ha fatto sapere di aver rinunciato al suo diritto d'appello, cosicché il ragazzo non avrà l'obbligo di ripresentarsi in aula a giugno L'avvocato di Conrad, Robert Shapiro, ha fatto sapere di aver rinunciato al suo diritto d'appello di invidia L'avvocato di Conrad, Robert Shapiro, ha fatto sapere di aver rinunciato al suo diritto